I bambini ascoltano, osservano e vogliono capire cosa stia accadendo ai loro coetanei che scappano dalla guerra tenendo per mano le loro madri attraversando con mezzi di fortuna chilometri di neve. Così gli studenti dell'Istituto Leonardo Sciascia sono loro ad essere portatori di un importante messaggio, quello della pace. Durante i giorni dall'8 marzo fino all'11 sono molte le attività che i giovani studenti guidati dai loro insegnanti stanno realizzando, da bandierine a striscioni a cartelloni colorati, tutto da portare in piazza per dire no alla guerra. Giorno 8 marzo è stata issata la bandiera della pace sulle note di imaging di John Lennon e i versi di alcune poesie scelte dalle insegnanti. Lì erano presenti anche alcune mamme. Ed è la loro dirigente scolastica, Rossana Ambra, che fa a loro un augurio. A noi persone semplici, dalle storie quotidiane, spetta il compito di non abbandonare la speranza, la speranza che i potenti della terra possano salvare la storia dell'umanità, aprendo i loro cuori alla ricerca pacifica della fine della guerra. Giorno 11, consapevoli dell'importanza della pace, parteciperanno alla fiaccolata che si terrà in piazza Garibaldi alle 19.